Ragazzi buona buona serata a tutti buona domenica a tutti allora allora innanzitutto mettete come sempre come invito sempre mi raccomando mi piace al video sotto in descrizione seguitemi su Instagram tutte tutti i miei social insomma seguitemi ovunque seguitemi ovunque detto questo le parole di Gasperini che hanno fatto scalpore che sono state considerate scandalose che per certi versi possono anche sembrarlo no? Allora Gasperini ha detto che bisogna insomma fare distinzione tra insulti diretti al giocatore e insulti che possono in un qualche modo essere un qualcosa di più Allora facendo passare il messaggio che gli insulti e i cori contro Vlaovic non erano cori di quel tipo cioè cori appunto discriminanti Allora premettendo che io questa cosa qui l'ho detta dopo quello che è successo per Lukaku e con Lukaku Continuo a ribadirla nel senso che molte volte secondo me si parla di razzismo in maniera esagerata nel senso che io credo che allo stadio molte volte si vada a prendere il pretesto della provenienza di un giocatore Per poi andare a insultare il giocatore ma a livello di giocatore o di persona ma individualmente non per insultare un'intera provenienza eccetera 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 Io credo che sia il caso anche di Vlaovic, il caso di Kostic, Matuidi al tempo, Ken, Lukaku, tutti questi giocatori qua Io quindi sulle parole e con le parole di Gasperini ragazzi sembrerà un po' politicamente scorretto come si dice ma io sono d'accordo con le parole di Gasperini Il problema dov'è che arriva? Il problema arriva da quando un allenatore, un tesserato dice queste cose qua E sono sicuro al 2000% che se ci fossero stati gli stessi cori contro un Miranchuk, contro un Muriel, contro Zapata Che tra l'altro bisogna dire anche una cosa La discriminazione non è solo nei confronti di chi, no, di un certo tipo di provenienza Dovrebbe essere nei confronti di tutti se si lotta contro questa discriminazione Ok, boh, e si fa appunto una lotta sull'antidiscriminazione Invece qua sembra che ci siano cori serie A, cori serie B, provenienze serie A e provenienze serie B Soprattutto vi ho sempre detto che il razzismo vero nel calcio italiano c'è ed è nei confronti di chi indossa la nostra maglia Adesso sembrerebbe che appunto la procura FIGC abbia chiamato la Juventus Ma è normale, ha creato un precedente pericolosissimo E ci sono state già delle cose nelle settimane successive a quella situazione di Lukaku Simili che non sono state punite Quindi hai creato un precedente pericoloso Perché qua non si parla, eh vabbè là c'è la squalifica Sì ma è stata tolta la munizione, non la squalifica È stata tolta la munizione che poi ha portato la squalifica di Lukaku Ma si parla di munizione perché poi Tant'è che si sta parlando, come ho detto oggi nel video Senza sentire nulla ovviamente Si sta parlando di una possibile Diciamo Che si potrebbe, ecco Levare la munizione presa da Vlaovic oggi Nel caso in cui dovesse poi pesare per una difida Allora che senso ha? Toglietela subito Ma io non sono per togliere le munizioni Attenzione Perché il giocatore che va in campo Va in campo Ok Da che mondo è mondo? Si becca di tutto Ma La differenza tra un professionista Che poi sono umani pure loro Per carità E sbagliano Come sbagliamo tutti Come sbaglia poi chi magari Esagera con certe cose Che io non farei mai Vabbè La differenza tra un professionista E un giocatore Che non è professionista Non dovrebbe essere solo Sulla qualità di un giocatore O sulla personalità Ma anche sull'autocontrollo Ok Questo dovrebbe essere Quindi Chiunque Reagisca contro i tifosi avversari Dovrebbe essere ammonito Bene Detto questo L'ho detto nel video di oggi Ovviamente poi Per certe cose Anche espulso sicuramente L'ho detto nel video di oggi A meno che appunto Poi non si vadano Non si vadano a toccare Certe cose Come è successo Con il tifoso della Sampdoria Che ha fatto il gesto dell'aereo Riferendosi a Superga Ma io queste cose qua Le tiro fuori anche quando si parla Di altre situazioni Non solo delle Isel Queste cose sono da punire Severamente Siccome Perché Vlaovic Si può difendere Perché C'è Esiste Ok Lukaku si può difendere Ma le vittime di Superga O le vittime dell'Esel Non si possono difendere Ed è lì che secondo me Bisogna intervenire Perché quelli sono Cori Vili Ok Ecco O gesti O gesti Come è successo Quello della Fiorentina Che tra l'altro Poi gli hanno levato Anche la difida Giusto per dirvi O questo della Sampdoria Che era un ragazzino Gesti Che vanno comunque A insultare Un qualcuno Che non si può più difendere Questa è la differenza Tra le due cose Quindi Gasperini Nel concetto Ha ragione Ma È una frase È un discorso Che sa tanto di ipocrisia Detta da lui Soprattutto Perché ripeto Conoscendo un po' Il mondo Del calcio italiano Soprattutto in generale Di quanto sia ipocrita Il calcio Sono sicuro Che se alla prossima Ci sarà Un coro Contro Mirancuc Contro Muriel Contro Non so Tiratevi fuori Qualche altro nome Zapata Contro De Miral Contro Chi cacchio volete voi Gasperini Non starà lì A guardare A dire Sì vabbè Ma sono insulti Che riguardano il giocatore Dirà che sono insulti Discriminatori E vorrà giustizia Questa è la verità Questa è la verità Io rimango Del mio concetto Che quelli Sono cori Secondo me È da evitare Ok Secondo me È da evitare In generale Qua si sentiva Tutta la curva Se non Addirittura Quasi tutto lo stadio A differenza Di quello che è successo Con Lukaku Comunque Sembra che comunque Lukaku Abbia fatto il gesto E poi Ci sia stata la risposta E non viceversa Invece qua C'è stata la risposta Di Vlouch Agli insulti Ma vabbè Il mio concetto Non cambia Cioè La provenienza Rimane un pretesto Poi ci si fa prendere Dalla foga Del momento Ci si fa coinvolgere Dal gruppo Diciamo Dalla curva E quant'altro E si fanno Questi cori qua Ma non si può dire Che chi fa questi cori È razzista Perché non lo conoscete Non li conoscete Ok Possiamo dire Che sono cori Col pretesto Razzista E là Possiamo anche Starci Ok Queste sono cose Differenti Il suo discorso Che Gasperini dice Il razzismo È un'altra cosa Ha ragione Ha ragionissima Ma ripeto Vorrò vedere Quando un giocatore Suo Di una certa provenienza Verrà insultato Lì Vedremo la coerenza Di Gasperini Siccome so che Non ce l'ha Ma come molti Tesserati Che stavano Nel mondo del calcio Non ce l'ha Vedremo Adesso ripeto La FGC ha aperto Probabilmente Perché ha creato Un precedente Pericolosissimo Con Lukaku E ve l'avevo detto Ve l'avevo detto Punto Quindi Questa è la mia opinione Io non cambio Idea A seconda del giocatore Che Vlaovic È un mio giocatore Io quando è entrato lui E ci sono stati quegli insulti Ho sperato che Vlaovic Segnasse E esultasse In questa maniera qui Perché Proprio volevo vedere Dove Si sarebbe andati E verso quale Ipocrisia Si sarebbe andati A livello mediatico Di youtuber Di tifosi Giornalisti Tesserati Vedremo Vedremo In i prossimi giorni Vedremo Perché magari Se ne parla oggi E domani Già non se ne parla più Mentre per Lukaku Se sei andati avanti Un mese Fino alla partita Di ritorno Praticamente Chiuso Chiudo Detto questo Vi auguro Buona domenica sera a tutti Sempre e comunque Fino alla fine Forza Juventus Sotto Scrivetemi Cosa ne pensate Questa è la mia opinione Ovviamente Non impongo che A nessuno di pensarla Come me Però questa è la mia opinione Ditemi cosa Cosa ne pensate Sotto nei commenti Mi raccomando Ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti E fino alla fine Sempre e comunque Forza Juventus Grazie a tutti